Grazie Presidente. L'impegno per accogliere, sostenere e integrare i minori è stato un impegno notevole che credo abbia prodotto dei buoni risultati. Le misure che sono state adottate a livello europeo, anche se naturalmente non sono del tutto esaustive, hanno però consentito anche di affrontare un tema del quale abbiamo parlato più volte e sul quale ancora una volta abbiamo trovato la sua sensibilità, che è quello dei minori scomparsi, cioè i minori dei quali si sono purtroppo perse le tracce una volta arrivate sul territorio europeo. Però io le chiedo se ritiene che ci siano ancora delle misure prioritarie e sicuramente ci sono da adottare in relazione ai minori con riferimento al tema della tratta degli esseri umani. Sappiamo che i minori sono le vittime più vulnerabili e le vittime che maggiormente rimangono traumatizzate proprio dalla tratta, che è un fenomeno veramente drammatico. In sostanza io le chiedo, alla luce della sua esperienza, alla luce del lavoro da lei svolto, come è possibile migliorare la tutela dei minori migranti? Quali misure, a suo avviso, saranno ancora da adottare dalla Commissione per fornire la giusta tutela ai minori che lasciano condizioni drammatiche di vita, territori di conflitti, situazioni veramente drammatiche e per loro traumatiche, come possiamo quindi, come Unione Europea, accoglierli e integrarli nei nostri paesi? Grazie. Onorevole Chinnici, vorrei dirgli qualcosa di molto semplice. Innanzitutto sono d'accordissimo con quello che lei di fatto va dicendo, non solo qui al Parlamento, ma anche in Europa negli ultimi cinque anni. Voglio veramente ringraziarla per il lavoro eccellente e per il suo impegno personale, in particolare a favore dei minori. Non esito a dirle che è stata proprio lei a sensibilizzare me rispetto a questo tema, quando ancora stavo imparando. Quindi devo dire che questo Parlamento e l'Europa, senz'altro, devono molto a lei e al suo contributo. Sono molto lieto di rivederla qui al Parlamento e penso che l'aspettano ancora compiti molto importanti. La situazione dei minori è stata oggetto quindi di domande, in particolare per quanto riguarda anche la Grecia. La sicurezza e la protezione dei minori, soprattutto minori non accompagnati, dovrebbe essere una priorità per tutti noi. L'abbiamo detto e ripetuto nei contatti con tutte le autorità degli Stati membri. Ora serve un'azione immediata e decisa. La situazione dei migranti vulnerabili viene considerata con estrema attenzione in tutte le nostre misure politiche e operative. Questo l'abbiamo menzionato ed è stato oggetto di attenzione particolare in tutti i rapporti. All'interno del Fondo per asilo e migrazioni sta prevista un criterio per l'accoglienza di minori, minori non accompagnati e vulnerabili. Questo anche proprio nel bando per la presentazione dei progetti. Attualmente stiamo finalizzando un bando per la protezione dei minori migranti. La scadenza è la fine di gennaio del 2020. Onorevole Chinnici, è importante continuare a fare pressione per sensibilizzare rispetto alla questione che riguarda i minori e di fatto riguarda anche tutti i nostri valori europei.